Una volta eravamo una squadra, adesso invece non lo siamo più. Così il consigliere regionale del nuovo centrodestra, ex assessore dell'Aggiunta Comunale, Giorgio D'Ignazio, interviene sulla questione politica teramana. Quello che manca oggi alla città di Teramo, al sindaco di Teramo, è quella squadra, queglione che va dal momento ludico ai problemi, si è da affrontare insieme. Si è perso questo. Una volta, io ricordo, noi ci incontravamo, parlavamo sempre, eravamo comunque e ascoltavamo e coinvolgevamo anche chi era al di sopra di noi rispetto a come ente, quindi provincia, regione, parlamentari, erano sempre presenti. Oggi si è persa questa cosa, dobbiamo recuperare questo nuovo tutti insieme perché tutti insieme dobbiamo essere squadra. In una squadra dove ci deve essere un terzino e un attaccante, un centrocampista e un portiere. Se no, non si va da nessuna parte, non si va veramente da nessuna parte. La figura Lucantoni Campana, come la vede? No, io non, per l'amore di Dio, a parte che me la Lucantoni è molto simpatica perché è attaccatissima. E' anche vero che ha sentito delle polemiche in città? Sì, ma non ne voglio entrare in questo, questo è un ruolo che deve fare il sindaco. Il sindaco deve fare il suo ruolo, il sindaco va lasciato fare. Nelle altre città, se vuole poi essere sostenuto, aiutato, deve assolutamente coinvolgere tutti gli attori che possono dargli una mano. Quindi secondo lei la situazione interna che si è perso questo spirito di squadra non deriva anche da, o potrebbe derivare anche da questa situazione di non condivisione nelle scelte? Potrebbe essere, però credo che tutti possiamo sbagliare. Nel momento in cui l'errore viene condiviso, viene aiutato, viene capito, si risolve. Se no, molte volte ci troviamo di fronte a situazioni già fatte e che poi diventano difficili da sostenere perché non ne conosciamo le ragioni. Questo non accade, c'è il silenzio. C'è il silenzio, non se ne conoscono le ragioni, sì.